Ben trovati, scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti di Tracky News. Il sistema Predictive Power Train Control utilizza i dati del GPS e le carte topografiche 3D per ottimizzare la gestione della catena cinematica. A differenza di altri sistemi, il PPC impiega mappe 3D preinstallate per una copertura di 295.482 km pari al 95% di autostrade e strade statali europee. Per questo motivo il PPC conosce in anticipo e sin dal primo viaggio le variazioni di pendenza della strada che andrai a percorrere, permettendoti fin da subito di ottenere un notevole risparmio di carburante. Il kit di retrofit PPC può essere installato su New Actro, Santos e Arox a partire dalla data di fabbricazione agosto 2012 ed equipaggiati con cambio Power Shift 3. Contatta la tua officina autorizzata a Mercedes-Benz Track di riferimento e verifica la possibilità di montaggio sul tuo track. Scopri i vantaggi dell'offerta a te dedicata richiedendo un preventivo. Sconti e agevolazioni esclusive per le aziende di autotrasporto associate a Fai Service per i passaggi autostradali. La società conese, il leader indiscusso del settore, grazie alla sua decennale esperienza e la sua professionalità, garantisce in tempi certi la massima percentuale di rimborso nei pedaggi autostradali. Con la società conese, le imprese associate ottengono la massima percentuale di rimborso a prescindere dal volume di passaggi autostradali. Ad esempio, un'azienda con tre autoveicoli, che da sola non potrebbe beneficiare della scontistica, entrando a far parte del gruppo Fai Service, usufruisce di sconti tali come se fosse un'azienda che da sola consuma 5 milioni di euro in pedaggi all'anno. Al Via in Italia, il progetto pilota targato Europe Assistance, si tratta della Track Global Business Unit, che lancia la prima esclusiva offerta modulare altamente personalizzabile creata ad hoc per rispondere alle esigenze del settore. I prodotti Global Track si compongono di una gamma assicurativa Easy Pass e Black Pass, con pacchetti modulari che prevedono assistenza tecnica in caso di incidente e guasto al veicolo, assistenza alla persona e tutela legale. A questa si aggiunge una gamma a servizio con due varianti, Europass, con una fee d'ingresso che permette di accedere ad una griglia di costi fissi, trasparenti e validi in tutta Europa, Use Pass, con la libertà di attivare il servizio on demand e di usarlo quindi solo in caso di bisogno. Polizze con massimali alti, servizi all'estero disponibili H24, limiti di età senza precedenti e inclusione dell'assistenza ai pneumatici, completa e modulare che risponde ai bisogni di grandi e piccole flotte. A questi elementi si aggiungono un pricing molto competitivo e un sistema di scontistica legato non più alla flotta ma all'intermediario, che può beneficiare di un ribasso importante per oltre 50 veicoli assicurati. Cogliete le offerte di fine estate per piccoli e grandi autocarri. Dal 1 settembre al 31 ottobre 2016 la sicurezza dei pneumatici Michelin è scontata per le misure sculture in promozione con acquisto minimo di due pneumatici. Approfittate quindi dei rimborsi per fare più chilometri con i pneumatici autocarro Michelin. Tutti i dettagli li trovate su autocarro.michelin.it E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento, grazie, arrivederci. Grazie.